ciao a tutti e benvenuti al canale prima di cominciare volevo ringraziare a quelle persone che si sono scritte ai miei nuovi iscritti grazie come vedete stiamo andando a fare un giretto all'ikea invinto finalmente mio marito sto andando a comprare due cosette che volevo proprio per poter sistemare il moviletto che ho in bagno intanto che facciamo il giretto vi farò vedere cosa c'è in saldi magari sono articoli che vi possa interessare ed eccoci facciamo l'interno come vedete c'è questa lampada che è proprio con un prezzo molto basso praticamente siamo andati un giretto velocissimo abbiamo tagliato il percorso perché mio marito è pratico in tagliare il percorso all'ikea perché evita di stare magari dentro a fare due ore di giro e allora abbiamo fatto così abbiamo cercato di fare il giro più veloce infatti è stato il giro più veloce perché avevo fatto l'ikea ma sono contenta perché sono riuscita comunque ad acquistare quello che volevo vi farò vedere anche cosa ho comprato vi farò vedere anche se ci sono come vedete cerco sopra di farvi vedere il prezzo ho visto che ci sono queste borracce che sono molto utili per poter magari evitare la plastica anche questa con il simbolo di Ikea poi ho visto anche questa che è tutta in silicone morbo e non in silicone morbido voglio far vedere questi contenitori sono utili può essere per la dispensa mi sono piaciuti perché sono sottili magari metterli per guadagnare spazio ho visto anche queste borzette dell'Ikea muscoli sono come portachiavi a solo un euro poi ci sono anche queste poltrone che sono modelli diversi poi questa che è un pochino più semplice margarina i cuscini sono acquistabili separatamente come vi dicevo ho fatto il giro proprio ho tagliato tanto il percorso dell'Ikea perché avevamo deciso di fare il giro veloce e tornare a casa magari subito in quello che abbiamo fatto ma nel tempo che sono stata provare a vedere quello che c'era ho visto questi due comolini che possono essere sia comolino come tavolino magari in questi due colori sono anche in offerta in saldi poi c'erano anche questi che sono dei tavolini sempre questi due colori poi questi sono più lunghi ecco il prezzo è scontato poi c'è questa credenza qua ci sono qua alcuni mobili che magari può interessare vi faccio vedere c'è questo tavolino da parte sopra in vetro molto carino c'è poi c'è questa colonna tipo libreria che è anche scontata anche questa color bianca ok vi faccio vedere quello che ho comprato ho comprato questo gli taglieri piccoli in plastica poi questo per pulire i vetri poi ho comprato questa non è vera è una peccina finta però è uno dei miei costi che mi è piaciuto tanto poi sono andata a comprare questi che mi interessavano di più per poter mettere nel mobiletto che ho in bagno che vi farò vedere come li ho sistemate poi il mio grande acquisto è stato il portachiave con la borsetta dell'IKEA ok ho sistemato qua questo che mi serviva proprio per mettere in questi due cuoti le medicine e alcune scorte di shampoo e creme che avevamo mi è piaciuto molto volevo il colore bianco questi due perché volevo metterli sopra spero il video vi sia piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale di lasciare il vostro pericino in su ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao